E' aumentato il... come si dice? Intesa. No, a parte la vostra intesa, mi avete fatto guadagnare una frega di punti. Io venivo da Valleaventino, dove avete visto voi come mi hanno persagliato, quando siamo andati in là, sette anni, grazie a voi, grazie a voi, grazie al vostro impegno, grazie alla vostra serietà, grazie a tutto quello che avete dato durante la stagione. Io come tecnico, come istruttore, ho ricevuto una marea di complimenti, però io quei complimenti che mi hanno fatto a me, ve li do tutti a voi, perché grazie a voi che il mister è riuscito a ottenere questo bellissimo risultato quest'anno e ho già rinunciato a due o tre società, perché voglio restare con voi e voglio continuare questo lavoro, voglio continuare a crescere con voi, perché ve l'avevo detto già dall'anno scorso, il mio lavoro minimo, due o tre anni, non me ne vado come fanno tanti a prendere i soldi all'altra società, a me di solito non è ria un cazzo. voglio continuare con questo gruppo, voglio far diventare questa squadra forte, forte, forte e voglio che tanti di voi raggiungano certi obiettivi, anche importanti e quindi vi ringrazio, so che ora vi darete un'altra bellissima soddisfazione e quindi andate in mezzo al campo, impegno e divertitevi, vi dovete divertire, dovete prendere questa partita con chi ci dobbiamo divertire, dobbiamo far divertire al pubblico, dobbiamo fare belle giocate, dobbiamo giocare semplici, però fare belle giocate e far venire tutta questa gente che c'è sugli spazi, che questo è un magico gruppo, per questo magico gruppo, I BIN CURIA, I BIN CURIA, I BIN CURIA!